Altri due arresti di corrieri e spacciatori della droga nella riviera delle Palme. Tremano altri VIP della San Benedetto Bene, personaggi e volti noti che sarebbero stati clienti affezionati di un duo di italiani. In manette sono finiti il 31enne San Benedettese Amato Marchei e il 42enne Nicola Carbone, originario della provincia di Missina e residente a Martinsicuro. I due erano tenuti da tempo sott'ottio perché visti in compagnia di numerosi tossicodipendenti. Nel fine settimana sono stati intercettati a portodascoli dagli uomini dell'antidroga, mentre a bordo di una Renault Megane si affiancavano in un'altra vettura. Ai poliziotti non è sfuggito uno scambio di banconote che Marchei ha ricevuto dal guidatore dell'altra auto. A quel punto sono scattate le manette e le perquisizioni domiciliari. A casa Carbone è saltata fuori la sorpresa più grossa. Sono stati trovati 60 grammi di cocaina purissima e 6,5 grammi di hashish. Sono stati rinvenuti anche 9.000 euro di banconote di piccolo taglio che sono stati sequestrati perché si presume provengano dallo spaccio di droga. La scorsa settimana era finito nel mirino delle forze di polizia un albanese accusato di aver rifornito tanti notabili san benedettesi. Due duricolpi assestati al mercato della droga che in estate quanto in inverno trova numerosi compratori nella riviera delle Palme.